13 settembre festa di san giovanni crisostomo recita giorno e notte questa preghiera per ottenere da lui la grazia il giorno 13 settembre di ogni anno si onora la memoria di san giovanni crisostomo egli fu vescovo e teologo greco antico fu anche arcivescovo di costantinopoli viene commemorato come santo dalla chiesa cattolica dalla chiesa ortodossa e dalle chiese ortodosse orientali ed è tra i 36 dottori della chiesa cattolica egli era così bravo come oratore che rifuttato proprio il soprannome di crisostomo che significa bocca d'oro la sua intercessione può essere molto potente se necessitiamo di ottenere un sostegno un aiuto anche una grazia o un miracolo si tratta di due preghiere suddivise per parte del giorno la prima va recitata nella prima parte della giornata quindi al mattino o al massimo nel pomeriggio mentre la seconda nella sera o nella notte rendiamo quindi grazie al signore per averci donato san giovanni cristostomo e lo invochiamo per chiedergli di intercedere nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen preghiere del giorno signore non rimuovere da me i tuoi beni celesti signore liberami dalle pene eterne signore se ho peccato con la mente o con il pensiero con la parola o con l'azione perdonami signore liberami da ogni inconsapevolezza e dimenticanza e meschinità d'animo e pietrificata insensibilità signore liberami da ogni tentazione signore illumina il mio cuore perché si è ottenebrato con il desiderio malvagio signore se ho peccato come uomo tu che sei un dio generoso abbi misericordia di me vedendo la debolezza della mia anima signore manda la tua grazia in mio aiuto perché glorifichi il tuo santo nome signore gesù cristo scrivi il tuo servo nel libro della vita e donami una buona fine signore dio mio anche se non ho fatto niente di buono davanti a te dammi per la tua grazia di porre un inizio di bene signore aspergi il mio cuore con la rugiada della tua grazia signore del cielo e della terra ricorda il tuo servo peccatore pieno di vergogna e impuro nel tuo regno amen preghiere della notte signore nella penitenza accoglimi signore non abbandonarmi signore non indurmi in tentazione signore dammi un pensiero buono signore dammi lacrime e il ricordo della morte e umiltà signore dammi il pensiero di confessare i miei peccati signore dammi umiltà castità e ubbidienza signore dammi pazienza lunga animità e mansuetudine signore fa dimorare in me radici di bontà il timore di te nel mio cuore signore concedemi di amare te con tutta la mia anima e il mio pensiero e di fare in tutto la tua volontà signore preservami da alcuni uomini e dai demoni dalle passioni e da ogni altra cosa e un piano signore poiché sei consapevole della tua creazione e del tuo volere sia in me peccatore la tua volontà perché sei benedetto nei secoli amen nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen amico 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 Grazie a tutti.